Ma perché sky tu muori sempre con la testa distrutta non voglio commentare quello che appena successo ragazzi Sto giuro giuro impazzisco per quello che appena successo Visto ti ho visto Così fa Cos'è cos'è il cosplay di Victor No 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 Assassino Ma Ma Perché piangere se l'hai fatto tu eh Va bene non ho visto nulla Tutti quei perk Cosa stavi facendo sky Oh what Hai anche le boccette che rallentano Aspetta le creo se vuoi eh Ok creato E sono atomiche e ti 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 fanno svenire direttamente Scusate Che botta di qua Tutta bravura ragazzi Tutta bravura Sono forte chiaramente Fuck Come non detto Che derivano in testa le saponette fanno male Dipende dalle saponette dai Magari sapone liquido No Cosa cazzo via No Anche a me è successa questa cosa Sono illustratrice Niente amore Fai NSF Mi fai la creep per favore amore Spot the main character Sono quelli tutti vestiti di nero Diligente eccetera O è il coglione col vestito rosso Gli occhiali da serpente Mmm Chissà chi è il main character di questa storia Col cazzo ci vado prima io Let's go Aiaia io ho male al culo invece Pensate un po' a voi Quinta voce normale Ma se invece facessi Nice Bella 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 Dove sei qua Parlami Parlami da amore Posso farlo se volete Oh cazzo È un pezzo di merda Non stavo parlando Gian dove vai? Io voglio fare Gentle Resilience Ma non si ferma Costruito per durare No come non si ferma? Ma no Non ci ferma Ma dai ma esci fuori Ma la prego Signor Gian Vai apri un po' tu O sei più forte Non funziona Adesso lo blocchiamo No Quella lì sicuramente Cos'è? What the fuck? Ma che cazzo vuol dire? Allora Tra l'altro adesso che abbiamo la nuova fibra Ragazzi 40 secondi Ho finito di scagliare Se io facessi questa cosa qui Amo Gianfranco il mago Può avere il nado da pagliaccio Sei contento così? Non togli la va Ma no Ma perché? Ma io mi sono impegnato Per mettere pure le cose fighe Uffi Ciao Zenobia Ho trovato tutte le tue gobiglie Dici davvero? Non credevo che fosse possibile Ma che cazzo? Ma perché ce la faccio così Ma cazzo? Troppo grande la mia webcam Aiuto Allora 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 Allora